l'italiano bilotta la mente mente e altre storie aracne editrice queste mini storie convergono tutte sulla trascendenza e sull'ipotesi di realtà che è la legge di reincarnazione. Per evolvenza infatti una vita sola non spiega nulla della condizione umana. La mente che da sempre cerca di scandagliare la sua condizione è impari a questo compito perché è un veicolo che serve solo a percorrere i fotogrammi della condizione umana ma non l'origine dei fotogrammi. La spiegazione del perché della vita non la può dare quindi la mente che è la penultima verità dell'uomo ma solo la coscienza che è l'ultima verità del periodo evolutivo chiamato uomo. Grazie a tutti.